Qui le forniture non funzionano affatto in maniera efficace perché i dispositivi di protezione individuale e le strutture sanitarie sono fornite direttamente dalla Regione Lombardia e quindi è compito loro ridistribuirle. Sul territorio per il personale socioassistenziale e per coloro che sono in prima fila nei servizi di pubblica utilità abbiamo fatto molta fatica a reperirle e per fortuna abbiamo avuto una raccolta di fondi straordinari da parte di cittadini che ha costituito un fondo che si chiama Aiutiamo Brescia e questo fondo è andato alla ricerca di mascherine e dispositivi e le ha cominciate a distribuire nel territorio. Con molta fatica sono arrivate invece dalla protezione civile, con molta fatica. Diciamo che le cose oggi e dalla Regione Lombardia non girano ancora come dovrebbero e c'è una grande scarsità sia di mascherine sia di dispositivi di protezione. Grazie, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, speriamo nel frattempo di sistemare meglio gli audio. Restate con noi.